Tanti anni fa, nel 1897, c'era un bimbo che si chiamava George e poi il suo cognome era Washington. Ok. E lui aveva proprio due anni e lui camminava e camminava nella strada e ha sentito un po' di musica, erano solo i signori Jefferson Roosevelt e Lincoln che stavano ballando facendo musica. Ah, ok. E Washington li ha proprio visti. Oh, capito. E lui in tasca non se ne ha accorto che aveva un triangolo. Wow. Allora, attraversato la strada da solo, non si è fatto male da una macchina. Ah, ok. E poi è venuto vicino a loro e Jefferson aveva proprio un bicchiere pieno di soldi e Washington ha proprio messo la monetina là dentro. Così anche lui vuole fare musica. E poi ha usato il suo triangolo per fare musica. E poi la sua musica è camminato via e Jefferson gli ha detto che la sua storia poi ha finito. Oh, capito. E poi è andata, è andata, è andata, è andata, è andata, è andata via e poi non si è ne accorta che aveva il libro di Jefferson. E poi l'ha letto, è letto, è letto, è letto, è letto, è letto, è letto e poi ha camminato, è camminato, è camminato. C'era il sole fuori, non era notte, era giorno. Ok. E lui è andato su un altro marciapiedi e lui è andato dentro un bar e lui ha preso un succo di frutta, era un succo di, era un succo di mela e poi l'ha bevuto e poi è andato fuori dal bar, ha camminato via e poi è andato a casa. Fine. Ok, allora adesso questo è finito, mi devi fare la storia degli altri presidenti.